Via Garibaldi, una via centralissima di Fano nel cuore del quartiere dei Piatelletti, asseviario che congiunge il centro al mare. Via Garibaldi riqualificata e resa bellissima nel suo tratto iniziale. La via dei Ciliegi, teatro anche spesso di iniziative pubbliche, dopo anni di incurio e degrado è tornata ad essere uno dei salotti buoni della città. A meno che i soliti vandri dalla bomboletta spray facile non ci mettano lo zampino. E detto fatto, questa mattina brutta scoperta, a partire dal civico 97 in giù fino ad arrivare alla sede delle poste centrali, l'imbrattatore di turno, la scorsa notte probabilmente tra la mezzanotte e le prime luci dell'alba, ha pensato bene di mostrare tutto il suo disprezzo verso l'etnia albanese, aditandola come una progenie messa al mondo da donne di facili costumi o di scarsa pulizia. Ne sono comparse ben sei di scritte in vari muri in via Garibaldi, anche adornate in alcuni casi da rafforzativi grafici dal tono osceno, tanto per rimarcare bene le cose. Ora a questo vandalismo ingiustificato di sporcare i muri di case, abitazioni, mura monumentali con scritte e segni indecenti, già di per sé ingiustificato, in questo caso si aggiunge l'aggravante dell'odio razziale e per questo alcuni residenti della strada ha già in passato vittime di questo schifo, si sono rivolti alle forze dell'ordine che ora stanno indagando. Ma una delle residenti in via Garibaldi al civico 97, sul muro della casa in cui compare una delle scritte più grandi, la signora Francesca, ha pensato bene di rispondere per le rime agli imbrattatori, scrivendo anch'essa sul muro, di casa propria ovviamente, e di proprio pugno, o meglio di coprire le scritte d'odio con quelle di due cartelloni, dove il messaggio all'indirizzo degli ignoti è molto chiaro. Provo un po' di pena, scrive la signora Francesca, per chi non ha meglio da fare che imbrattare i muri di notte, credo nel potere delle parole, delle parole belle però. Qui nessuno ha niente contro gli albanesi, se proprio le differenze ci sono, sottolinea la residente, sono tra le persone civili ed incivili, tra intelligenti e stupidi. E comunque, chiude romanticamente la padrona di casa, vi voglio bene ugualmente, buona estate a tutti. Beh, che dire, vandali zero, signora Francesca, due.